Buongiorno, io sono Adasaki. Grazie per questa opportunità ho realizzato quest'opera pensando alla mia bambina e all'amore che provo per lei. Poi questo sentimento mi ha fatto pensare alla mia mamma e all'amore che ho per lei. Successivamente ho espresso questo sentimento a tutte le mamme e a tutti i bambini che la condividono. L'opera con la quale partecipo al concorso si intitola Otturno sul lago. Mi sono lasciata ispirata dai colori di queste stagioni sovrapposti ai colori della mia anima per stendere su carta i due uccelli simbolo del legame tra una madre e il suo bambino. Un legame che esiste oltre i mondi senza inizio e senza fine ma è infinito alla del tempo e dello spazio. Siamo collegati alle nostre madri e ai nostri figli da figli invisibili oltre la nostra esistenza. Un legame che porteranno con noi anche quando non saremo più su questa terra. L'autunno sul lago è la metafora dell'amore che nasce prima che il bambino sia nel grembo materno, che cresce man o man, che il tempo si trasforma in anni, ricordi, sentimenti. Un amore che transcede tutto, guarisce tutto, salve tutto. Grazie mille.